Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione in diretta di UD News TV in apertura di questa edizione. Apriamo con la politica, con l'assessore regionale Roberti che è stato ricevuto dall'ACALE, il Consiglio per le Autonomie ha illustrato il provvedimento della giunta che riguarda la polizia municipale e i fondi per la polizia locale. Non da tutti la norma è stata presa bene ma sentiamo le parole dell'assessore. Abbiamo provato con parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali il programma Sicurezza 2019. Il programma Sicurezza è strettamente legato alla legge 9 del 2009 che prevede che i beneficiari di quegli interventi siano i corpi di polizia locale, quindi chi ha più di 12 addetti o 8 nelle aree montane. Sapevo delle criticità che si venivano a creare, che sono state sollevate anche nel corso di questa riunione, ma ho dato pronta risposta nel senso che già la giunta regionale, il Consiglio regionale in legge di stabilità, aveva licenziato una norma che prevedeva un finanziamento di altri 3 milioni e mezzo che andranno a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, a prescindere se abbiano o meno il corpo di polizia locale. Una quota da 3 milioni e mezzo di euro suddivisa in 10 mila euro come quota minima per tutti, quindi nessuno avrà meno di 10 mila euro e la restante parte, quindi fanno 2 milioni e 150 mila, la restante parte andrà suddivisa in modo proporzionale secondo la popolazione residente, ma in questo modo potremo dare risposte a tutti su tutto il territorio regionale. Sui 3 milioni e mezzo stiamo lavorando sul regolamento che verrà portato in giunta, penso, questa settimana o la prossima, dopodiché anche su quel regolamento ci sarà un passaggio al CAL, al Consiglio delle Autonomie Locali, dopodiché potranno essere dati ai comuni secondo i criteri approvati. Torneremo a parlare di questo provvedimento perché ci sono state diverse reazioni, adesso invece registriamo le dichiarazioni di Cristiano Schauli, il segretario delle PD regionale all'indomani delle primarie per delle PD perché appunto c'è stata netta vittoria di Zingaretti dopo una giornata che ha registrato grandi affluenze, Cristiano Schauli ha voluto soffermarsi non solo sulla vittoria di Zingaretti ma soprattutto sui prossimi impegni del Partito Democratico, le elezioni europee e quelle amministrative. La soglia psicologica dei 25 mila è stata raggiunta, partiamo da qua. Sì, un dato assolutamente positivo, devo dire quasi inaspettato per quelle che erano le precondizioni, ma devo dire davvero un grandissimo momento di democrazia per cui vanno ringraziati tutte le persone che ci hanno messo la faccia e sono recate ai seggi. Quindi io credo un segnale, penso, a tutta la politica italiana, non solo al Partito Democratico, non solo al centro-sinistra. 25 mila è il dato regionale, 1 milione e 800, quello parziale a livello nazionale, la vittoria di Zingaretti così ampia se l'aspettava? Ma era un po' nell'aria e sappiamo che insomma quando anche nelle convenzioni fatte in precedenza c'è un successo di un candidato segretario, poi si tende anche a valorizzare e a rafforzare questa persona che dovrà poi essere il rappresentante del segretario di tutti. Un segnale anche ovviamente di discontinuità, ma credo che soprattutto, ripeto, per noi l'importanza era l'affluenza, ed era la partecipazione il segnale di una comunità che vive vivace anche in questa regione. Rimanendo sul politico, che ripercussioni ci potrebbero essere in regione proprio con la vittoria di Zingaretti e dell'ala più sinistra del PD? Ma non credo che ci sia nessuna ripercussione, ne abbiamo fatto un congresso unitario a livello regionale, abbiamo replicato questa unitarietà anche nei livelli provinciali, collaboriamo, credo bene, davvero tutti, da Francesco Russo a Sergio Bolzonello in Consiglio regionale e penso che proprio il segnale che ci ha dato il nostro popolo è quello di avere un PD autorevole, unito, pronto a fare l'alternativa, non a mettersi a discutere di correnti o di divisioni interne. Dobbiamo essere, anzi, prendere proprio il messaggio dell'unità in questo momento e della richiesta che i cittadini ci fanno di costruire un'alternativa. Tra le curiosità del voto tra i vari seggi allestiti in regione, che cosa ci può raccontare? Beh, ci sono dei dati importanti nella città di Udine dove cresce notevolmente l'affluenza anche rispetto alle ultime primarie, e quindi credo che questo sia un segnale importante della vivacità del partito, del centro-sinistra nella città di Udine. Crescono realtà anche come la città di Trieste. Insomma, c'è comunque un segnale dappertutto positivo, anche in paesi dove non eravamo molto presenti, in piccole comunità dove non eravamo molto presenti, le persone si sono recate al voto. Magari con due persone che tenevano aperto il circolo, ci sono trovate quasi inaspettatamente decine di persone che sono andate a votare. L'aveva riferito anche in conferenza stampa nei giorni scorsi, con le primarie parti, anche la campagna elettorale verso le europee, le amministrative. Partiamo proprio dalle europee. Il PD in Friuli ha già schierato la De Monte per cercare una riconferma, anche se sarà molto difficile per quanto riguarda anche i collegi a livello di nord-est, mentre per quanto riguarda poi le amministrative, nei vari comuni, i principali, avete già chiuso le partite? Per quanto riguarda le europee, io credo e ribadisco, l'abbiamo fatto dall'inizio, per noi queste primarie erano anche e soprattutto un lancio della campagna delle europee. Io sono straconvinto e sono ogni giorno più convinto che questa regione, il Friuli Venezia Giulia, o europea o rischia di non essere più, di venire fagocitata dal Veneto e di diventare sostanzialmente una regione statuto ordinario. Noi abbiamo un futuro se abbiamo una visione europea, quindi dovremmo giocarcela fino in fondo. E la candidatura di Isabella De Monte non è una candidatura per rappresentare solo un'elezione, è la candidatura per avere un rappresentante a Bruxelles e a Strasburgo che rappresenta gli interessi di questa comunità e di questa regione. Per le amministrative, devo dire, stiamo sostanzialmente chiudendo in tutti i comuni, anche qui sono moderatamente ottimista, è chiaro che lì ovviamente essendoci 118 comuni al voto, molti avranno dinamiche civiche, tra virgolette, quindi senza un'identificazione chiara e netta di partito. Continueremo a parlare di politica fra poco perché ci collegheremo in diretta con il Comune di Udine dove c'è la riunione di giunta. Adesso invece parliamo di cronaca, di quello che è successo questa mattina. I vigili del fuoco di Cividale sono intervenuti alle 7 meno un quarto a seguito di un incidente stradale che si è verificato a San Giovanni alla Natisone, all'incrocio tra la strada regionale 56 e la via Giassico. Secondo una prima ricostruzione, un'autovettura Peugeot proveniente da Gorizia e diretta verso Udine, condotta da un uomo, non ha rispettato la precedenza e si è scontrata con una Toyota Yaris che arrivava da via Giassico. La conducente di quest'ultima è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale di Udine. Successivamente si è provveduta la messa in sicurezza dei due automezzi sul posto, i rilievi della polizia stradale. Questo incidente a San Giovanni al Natisone. Un altro sinistro si è verificato nella tarda serata di domenica, poco prima delle 23, sulla ex provinciale 60 a Mereto di Tomba, poco prima della rotonda da cui si prende la strada per raggiungere la frazione di San Marco. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e si è capottato. Sono due feriti, l'autista e una persona che viaggiava con lui, entrambi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza con un trauma toracico. Per la messa in sicurezza della strada sono intervenuti i vigili del fuoco e i rilievi dei carabinieri. È stato invece ritrovato nella notte il giovane della bassa friulana, classe 92, che si era allontanato da casa verso metà pomeriggio e dopo ore, non vedendolo rientrare, i parenti hanno ritenuto potesse trovarsi in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno a mezzanotte, si è messa in moto la procedura per la ricerca delle persone scomparse. Dopo circa un'ora e mezza la persona, il ragazzo, è stato individuato nella zona di San Giorgio di Nogaro in un parcheggio. Sono intervenute anche le squadre della protezione civile. E adesso parliamo di sanità, chiamato dividersi tra l'azienda sanitaria di Udine e l'azienda sanitaria numero 3 Alto Friuli, Collinare Medio Friuli, Giuseppe Tonutti, sta riorganizzando le strutture sanitarie in Friuli, gettando le basi per la futura azienda unica della provincia friulana. Sentiamo le sue prime mosse. Dottor Tonutti, alla guida della nuova azienda territoriale per tutta la provincia friulana, un'attività da commissario che sta portando avanti, concentrandosi su cosa in particolare in questi primi mesi? Allora, intanto per fortuna non ho una grande necessità di fare un periodo di conoscenza, avendo comunque lavorato all'interno sia di questa struttura sia nell'Alto Friuli, dove attualmente sono comunque commissario anche di quell'azienda. E quindi sto già cercando di portare avanti qualche riorganizzazione che permetta poi di una sostenibilità del sistema nel complesso. Quindi abbiamo sostanzialmente due cose. Una è quella di portare avanti l'attività ordinaria in un equilibrio generale, è quello che stiamo cercando di fare e sarà anno per anno. La sfida di quest'anno è poi invece quella di creare una nuova azienda, che non sia la somma di tre vecchie aziende, quindi di una serie di errori anche che ci sono, ma proprio fare da una pagina pulita, disegnare una nuova azienda. E questo è l'impegno di quest'anno, sul quale sto cercando di ottenere un consenso generalizzato da parte di tutti gli operatori, perché senza il consenso in questo mondo andiamo poco lontano. Questigione sta proprio incontrando anche a livello territoriale, da Gemona a Cividale, il Vare personale, le strutture. Che sensazioni ha avuto e che modifiche nel brevissimo termine si possono auspicare? Io sto girando, sto andando a visitare le varie strutture. In realtà poi un po' le conoscevo, però a volte sono passati anche degli anni, quindi sono tornato volentieri a vederle. Ho trovato una grande attesa di cambiamento, un'aspettativa, in alcuni casi dei timori, perché ovviamente il nuovo può anche spaventare, però anche sostanzialmente una fiducia che la cosa possa portare dei vantaggi sia agli operatori che alla popolazione. Queste quindi le iniziative che ha in mente il nuovo commissario dell'azienda sanitaria. Adesso parliamo di un'iniziativa che riguarderà Udine in questi giorni, è già cominciata, ma durerà per tutta la settimana e la trasformerà nella capitale del design. Anna Lombardi per questa Udine Design Week, allora il punto sulle iniziative principali. Windows Shopping Contest è una gara per la vetrina più bella, a cui partecipano dieci negozi sparsi in tutta Udine e segnalati dai nostri totem, che sono state disegnate da dieci designer affiancati da circa 30 ragazzi del Malignani in alternanza scuola-lavoro. La vetrina più bella sarà giudicata tale da una giuria di esperti e da una giuria popolare tramite il voto in Facebook, quindi seguitici sui nostri social, i social del Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, che è il produttore di Udine Design Week. Sabato alle 12, sabato 9 alle 12, alla Fondazione Friuli sarà svelato il vincitore e sarà premiato e sarà anche premiato con il negozio che ha affiancato questi ragazzi e si è prestato a questa iniziativa. Ma Windows Shopping Contest è solamente una delle sezioni di Udine Design Week, perché ci sono le vetrine di tanti negozi, sono oltre 50 sparsi per tutta Udine. Seguite la mappa per sapere dove sono e seguite anche i QR codes, che sono dappertutto. Basta puntare il telefonino e vi appariranno tutti gli indirizzi di Udine Design Week. Importanti momenti saranno sicuramente domani con la presenza di Giulio Iacchetti, che è uno dei designer più famosi del momento, che ci ha dedicato un progetto speciale. Ha creato dei funghetti inesistenti che saranno esposti alla galleria Soul Interiors in Via De Ganutti e sono stati realizzati da un'azienda friulana, Fabro Arredi, che si è prestata a fare questo lavoro assolutamente concettuale, come concettuale è il designer. Ma viene anche Enrico Valeri, il noto imprenditore talent scout anche di Philip Stark, che sarà presente il 7 marzo alla galleria La Tarantola. e infine tanti incontri, ieri c'è stato quello con Patrizia Moroso. Il tutto è legato dal tema riflessioni, riflessioni sul design, riflessioni sia in senso fisico che in senso figurato. Continuiamo a parlare di Udine, lo facciamo direttamente da Palazzo D'Aronco insieme alla nostra Alice Matteloni, che vedo già pronta con il sindaco. A te Alice. Sì, buongiorno Valentina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Si è appena conclusa la giunta comunale e fra i vari provvedimenti e appunto nell'ordine del giorno la notizia che spicca è che è arrivato l'ok da Roma e appunto ci sono i fondi per la riqualificazione di Udine Est. ne abbiamo tanto parlato in questi giorni, sono disponibili 30 milioni di euro di cui appunto diversi dal pubblico, altri dal privato. Allora facciamo il punto con il sindaco, con Pietro Fontanini. Sì, la notizia riguarda 18 milioni del finanziamento pubblico, quindi il governo centrale Roma ci manda 18 milioni, anzi si autorizza a spendere 18 milioni per far tutta una serie iniziative che riguardano la zona est, quindi via Cividale. Stiamo parlando dell'ex caserma Osoppo, stiamo parlando di piazzale Oberdam dove verrà realizzata una rotonda al posto dell'impianto semaforico, poi verrà realizzata una pista ciclabile che parte da piazzale Oberdam e arriva fino alla stazione a San Gottardo del treno che arriverà a Cividale. per dire le cose più grosse che sono in programma, però sono 18 le progettazioni, adesso noi possiamo fare le gare per trovare le imprese che vogliono realizzare queste opere e da Roma ci arriveranno i soldi come stato di avanzamento, cioè ogni volta che noi riusciamo a terminare un'opera ci daranno in pratica i soldi per quanto abbiamo speso. E' una notizia importante perché molti erano pessimisti, pensavano che da Roma i soldi non ci fossero più e invece i soldi ci sono e oggi c'è questa bella notizia che Roma ci assicura il finanziamento. Quali gli altri punti toccati in giunta quest'oggi e quali gli altri provvedimenti adottati? Beh, abbiamo anche dato un contributo di 20.000 euro alla società che sta organizzando l'arrivo del Giro d'Italia femminile che si concluderà quest'anno a Udine sul Salone del Castello. Il 14 luglio in pratica ci sarà la tappa finale, è una gara internazionale, partecipano 140 cicliste e professioniste, 40% sono italiane ma il resto in pratica 60% arrivano da tutti i paesi del mondo. Quindi è una bella vetrina per la città di Udine, ricordare il ciclismo femminile anche perché a casa nostra abbiamo delle campionesse che meritano un riconoscimento con questa tappa che abbiamo voluto grazie a Enzo Caenero che si è impegnato molto realizzare qui come finale del Giro nella città di Udine. Sarà una bella rampa quella che da Piazza Libertà porta su in Castello quindi sarà molto bello vedere un po' anche questo arrivo del ciclismo femminile. Grazie al sindaco Pietro Fontanini, dalla Giunta Comunale Tutto, Valentina ti restituisco la linea. Grazie Alice, poi torneremo a parlare di queste decisioni prese dall'amministrazione nelle prossime edizioni. Adesso torniamo alla partita di ieri, alla vittoria dell'Udinese sul Bologna. e a tanti gli approfondimenti che abbiamo fatto fra ieri sera e quest'oggi un argomento che è stato trattato all'interno di Studio Stadio Commenti ieri sera è quello dedicato agli attaccanti partendo da una prestazione buona di Okaka e da una lasagna impiegato ieri solo per qualche minuto che potrebbe soffrire il magic moment di Naccio Possetto. Centroavanti operaio che serve una squadra che deve lottare per salvarsi speriamo che in futuro timbri il cartellino perché un centroavanti deve fare anche gol però oggi ha aperto tanti spazi. La prima volta che gli operai fanno squadra. Certo, assolutamente. Se non ci sono gli operai, ingegneri da soli non vincono. È fondamentale. Questo tipo di centroavanti ci mancava, poi un giocatore che gioca a spara da porta mette giù la palla, apre gli spazi, combatte, difende il primo a difendere e dà l'esempio agli altri giocatori, per cui bene, benissimo. Ma con un possetto così, una caca così, Nicola la verdura per lasagna riprendersi il posto. E lo scrivono anche da casa, tra l'altro, l'hanno sottolineato. Ma non è vero, non è vero perché non è vero, perché ci sarà l'occasione. Grazie Guido che rispondi per me. Ci sarà l'occasione. Mi togli un messaggio un po' con gli amici qua. Ti chiami Guido. Dopo ti do la parola. Vai, 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 tranquillo. Rispondo, rispondo. Ti chiami Guido. Allora, il campionato manca ancora due sigare. Ci sarà spazio anche per lasagna. Quando sarà chiamato, magari negli ultimi 20 minuti o per 15 minuti, dovrà dimostrare di essere pronto. Non esiste in questo momento il giocatore insostituibile. Lo ha detto poco tempo fa proprio Nicola. Ha detto che io mando in campo coloro che vedo meglio durante la settimana. No, secondo me invece se continuo a giocare così con prima e seconda punta, ha ragione chi dice che avrà delle difficoltà perché non puoi togliere il possetto. Se il ruolo è quello lì, deve essere interpretato da uno solo di questi giocatori, è per forza di cose l'argentino in questo periodo. Quindi è chiaro che lasagna è in gioco e se la prossima partita fa due gol, poi è difficile toglierlo. Ma nella heat parade della seconda punta, è chiaro che il primo in classifica è il possetto del Sudano. E ovviamente si tornerà a parlare di questo, e non solo, anche all'interno del nostro appuntamento pomeridiano, alle ore 15 e questa sera, all'interno di Udinese Tonight, quando Giorgio Portorossi e Maurizio Ferrari potranno mostrare anche un'intervista in esclusiva a Nacio Pussetto. Adesso diamo uno sguardo alle notizie dall'Italia e dal mondo. Stati Uniti e Corea del Sud hanno deciso di cancellare le maxi esercitazioni militari congiunte di primavera, note come Key Resolve e Fall Eagle, nell'ambito degli sforzi per tenere aperto il dialogo con la Corea del Nord. L'obiettivo viene spiegato è ridurre le tensioni e sostenere gli sforzi diplomatici per raggiungere una completa denuclearizzazione della penisola coreana, in modo finale e pienamente verificato. L'annuncio del Pentagono e del Ministero della Difesa di Seoul riflette i giudizi espressi venerdì dal presidente Donald Trump nella conferenza stampa di Hanoi, seguita al fallimento del summit con il leader Kim Jong-un, giudizi orientati a mantenere lo status quo. Il taekun da una parte si era lamentato degli oneri eccessivi delle manovre e dall'altro aveva ricordato la promessa del supremo comandante di proseguire nella sospensione dei suoi test nucleari e missilistici al momento arrivata a 15 mesi. Si intravede un barlume di speranza, forse, verso un via libera all'accordo sul Brexit che Theresa May ha promesso di sottoporre di nuovo all'esame del Parlamento britannico tra meno di dieci giorni, entro il 12 marzo. La mano in extremis alla Premier Tory, sia pure in forma condizionata, pare arrivare niente meno che dai più riottosi tra i falchi ribelli della sua maggioranza. Un tentativo ai limiti del miracoloso dopo il primo, segnato a gennaio dalla più colossale sconfitta, ha visti 230 voti di scarto, ma è rimediata a Westminster da un governo di sua maestà. Tutto nasce da una lettera inviata alla May e anticipata dal Sunday Times nella quale otto deputati, in rappresentanza dei conservatori euroscettici oltransisti dello European Research Group, guidato da Jacob Rees-Mogg e dagli alleati della destra unionista nord-irlandese, fissano le proprie condizioni per dire sì a un compromesso concordato tra il governo e l'Unione Europea, tale da scongiurare lo spettro di un no deal. Almeno 22 persone, tra cui due bambini, sono morte a causa di un tornado che ha colpito l'Alabama, distruggendo case prefabbricate e sradicando alberi. L'ho reso noto Hay Jones, sceriffo della contea di Lee. L'allarme meteo è stato esteso a Georgia, Florida e South Carolina. Il tornado si è abbattuto con violenza su Boregard, una comunità a circa 100 chilometri a est di Montgomery, capitale dell'Alabama, sul posto 150 soccorritori. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario, adesso le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni. L'informazione torna alle ore 15, a più tardi. Buon inizio di settimana a tutti. Dopo le belle giornate del fine settimana sono arrivate le nuvole, è arrivata anche la nebbia sulla bassa pianura e sulla costa. È un segno di cambiamento, diciamo che c'è un fronte che arriverà questo pomeriggio, soprattutto questa sera. Adesso in mattinata avremo ancora variabilità, quindi a tratti potremo riuscire a avere qualche schiarita. La tendenza è poi più nuvole nel pomeriggio e la pioggia in serata. Quindi questa sera c'è un peggioramento transitorio, molto veloce, alcune ore di pioggia in serata sulla pianura, sulla costa. Neve in montagna a partire dai mille metri di quota circa e tutto passa via nella notte. Diciamo che ci sarà anche un po' di vento da suddove, un po' di liveccio sulla costa. Domani è già bel tempo, è già passato, tornano le schiarizze, un cielo domani in prevalenza poco nuvoloso. Probabilmente domani sera, nella notte successiva, torneranno formati poschie o nevie, quindi diciamo che il tempo rimane poi stabile anche nella giornata di mercoledì. Grazie a tutti.